Scusi, avvocato. È la pratica Garibaldi. Grazie, signorina. Avvocato, vuole l'affidamento dei figli? No, ma vuole l'affidamento... Ti lascia la madre! Non abbiamo figli! Benissimo! Pronto! Pronto! Sì, per quella fattura puoi intestarla a Carlo Emilio e Giuliano Bandiera. Allora le preparo subito l'atto di separazione consensuale. No, ma non siamo neanche sposati. Sì! Sì? Sì, via Goffredo Mameli 32, Genova. Grazie. Garibaldi, Lina di Mameli, i fratelli Bandiera... Che state facendo? Unità d'Italia? Io non lo capisco. Io voglio che lei mi liberi della mia ex fidanzata. Capo tanto! Signorina, anche se è arrivato Giuseppe Mazzini deve aspettare, stiamo parlando. Lei può andare. Me ne vado? Non lei, lei. Lei può andare, lei resti qui, Cardella diceva. Allora, guardi qui. Questo...